Ciao a tutti amici e amiche e bentornati Oggi parliamo di SEMA Generalist Eye Agent from 3D Virtual Environments Quindi un agente AI per ambienti virtuali 3D Un argomento che abbiamo visto anche in uno scorso video sul canale Dove era appunto un AI di gaming di Google per creare videogiochi in 2D Vi invito comunque a rivedervi il video che vi lascio qua sopra Nel caso per chi lo vedrà su YouTube il video SEMA ha l'obiettivo di sviluppare un agente che può eseguire qualsiasi tipo di azione Che può eseguire un umano all'interno di un ambiente 3D Perché ci interessa? Perché è importante? Beh perché la capacità di connettere dei linguaggi umani con il mondo fisico Ha delle potenziali applicazioni nel mondo reale Quindi se noi traiamo queste AI su diversi dati di videogiochi Oltre che essere molto meno costoso di fare nel mondo reale Può aiutare a migliorare la capacità del modello di AI di generalizzare Quindi di adattarsi a diversi contesti Se lo addestriamo su tanti videogiochi diversi L'AI riuscirà a comportarsi in diversi videogiochi come un essere umano Quella roba lì può essere traslata poi nella robotica Come abbiamo visto nel video di Figure One Quindi possiamo poi andare a traslare questa knowledge Questa conoscenza in un altro dominio Quindi dai videogiochi al mondo reale Ed è per questo che interessa così tanto questo tipo di AI Quindi questo è il funzionamento delle AI Quindi abbiamo degli environments Che dovete immaginare come delle simulazioni di gioco Abbiamo i data Quindi i dati che arrivano da questi comportamenti che le AI hanno nei videogiochi Che vanno poi a trainare gli agenti Per poi farli agire nel mondo dei videogiochi E quindi puoi capire e valutare come si comportano E quindi si può far apprendere molto di più all'AI in questo contesto Con molta meno spesa Infatti immaginate se questi agenti venissero trainati ad esempio Nell'ambito del volo di un aereo Ok? Se vengono trainati in un ambiente virtuale 3D Quindi se l'aereo si schiantasse ad esempio Non è un problema Perché non costa nulla Invece nel mondo reale è insomma un problemino Quindi se anche fosse un drone ha un costo Quindi e non solo Si può fare anche un bel restart the game Quindi è molto più economico Fare queste simulazioni qui Nei videogiochi Per migliorare le capacità delle AI In diversi contesti E questi sono i giochi su cui hanno diciamo Trenato le AI Quindi hanno preso le AI E l'hanno fatta giocare un sacco di ore a questi giochi Che io di questi conosco soltanto Goat Simulator Che è un simulatore di capre E conosco anche No Man's Sky Che è un gioco di esplorazione spaziale Questo è come si comporta le AI all'interno del videogioco Qua ad esempio hanno chiesto al personaggio Go to the spaceship Quindi vai dall'astronave Quindi le AI legge il mondo fisico circostante E va verso l'astronave Come lo fa ora lo vediamo Perché anche questo riguarda sempre il large language model È sempre quello di capire come applicare questi linguaggi Questi modelli di linguaggio Per fargli fare cose nel mondo digitale Quindi qua dice appunto Che hanno usato per addestramento due tipi di fonti Ovvero commercial videogames Quindi videogame commerciali Goat Simulator 3 No Man's Sky Eccetera E anche dei research environments Che sono quindi degli ambienti di ricerca Per far capire alle AI Come interagire con il mondo del 3D Immaginate gli environments Come se fossero delle simulazioni Voi ci caricate dentro le AI La fate giocare tantissime ore a questo gioco E viene trainata sulla base di azioni umane Quindi ci sono dei giocatori che come lavoro Hanno quello di giocare ai videogiochi Per poi far capire quello che fanno alle AI In modo che venga replicato Che venga usato dalle AI per capire come giocare Esempio Abbiamo il nostro personaggio all'interno di No Man's Sky Ok Qua gli viene detto Vai verso l'astronave Quindi lui cosa farà? Si guarderà attorno Cercherà di capire se quello che vede nel gioco È un'astronave O corrisponde a criteri di astronave E poterà muoversi verso l'astronave Questa è l'idea Ma è un'interazione che è completamente diversa Da quello che hanno gli NPC oggi Questo è Isaac Gym Che per chi non conoscesse NVIDIA è praticamente l'azienda che Fornisce i computer Le schede grafiche La parte di software Di hardware Per le AI E vedete questi qua sono Le gym Le palestre Cioè ambiti in cui vanno a trainare Diversi tipi di robot Guardate questa qua di esempio Si sono strani ovviamente Ma sono ambienti di training E NVIDIA lo sta facendo con diverse cose Questo è un cubo Oppure questi sono Dei cani Robotici Digitali E questi sono tutti gli esempi Di azioni e interazioni Che riesce a fare Diciamo Sima Ad ogni parola Corrisponde un'azione nel gioco Quindi ad esempio Se ci fosse da mangiare nel gioco Ok Conosce Eat Cook Cut Slice Oppure craft Quindi creare Creare item Oppure materiali Operare Ecco la parte di operare ad esempio È molto più legata all'ambito reale Quindi navigare Oppure esplorare Oppure operate vehicle Quindi operare Quindi guidare dei veicoli Che siano macchine Camion Aerei Vi ricordo anche che Non sono tutte le azioni Quindi ad esempio L'ambito del combat Qua ci sono i tre puntini Fight Kick Sono esempi Ma avrà tutto un albero di dati Per appunto andare a Descrivere Tutti i tipi di azioni Di combattimento Che può Fare in un videogioco Qua è Go to the spaceship Quindi vai Dall'astronave Qua è Chop down a tree Quindi il comando è Vai e taglia un albero Qui è Drive the car Quindi Guida la macchina Oppure qua è Go to the hub Ecco Questo go to the hub Vedete che in questa immagine qua Non c'è l'hub Quindi L'AI qua Deve comunque poi orientarsi Deve dire Deve pensare Non pensa all'AI Però deve ragionare Ma non ragiona l'AI Vabbè Non vedendo l'hub Deve muoversi Muoversi per cercare l'hub E quindi poi spostarsi Per andare a compiere l'azione Che è stata richiesta Questa è l'idea Avevamo visto una cosa simile Se vi ricordate bene Sul canale Ora poi vediamo anche queste cose qua Come si comportano Con Smallville Un villaggio virtuale Che aveva diversi agent Diversi agenti AI Che erano controllati Da chat GPT 3.5 O 3 addirittura all'epoca E nel villaggio appunto Faceva vedere come Queste azioni Poi in realtà Portano a Dei comportamenti Degli agent diversi Quindi ci sono alcuni agenti Che di loro Spontana volontà Fanno dei task Ad esempio Ad esempio c'era Mi sembra Qua si può Replicare Se io faccio Play Si può seguire Il personaggio Vedete Ogni personaggio Ha dentro GPT E si comporta Di conseguenza Alcune interazioni O comportamenti Tipo c'è un personaggio Che va a Creare una festa Non ricordo Chi sia Uno di questi Comunque crea una festa Decide che Vuol creare una festa Di compleanno Per un altro personaggio E qua ci sono anche le azioni Era una cosa molto simile Ecco Sappiamo che Nei videogiochi Online Soprattutto C'è un problema Di bot Questo è un problemino Ad esempio Perché questi tipi di bot Sono Non Riconoscibili Perché si comportano Appunto Facendo azioni Con un mouse E una tastiera Quindi Si comportano proprio Come Degli input Di esseri umani Quindi Questi bot Qua Lanciano Una nuova generazione Di interazione Nel mondo Di gioco Perché gli NPC O i personaggi Non giocanti Possono essere intelligenti Però Anche dei dubbi Poi su Che cosa accade Poi però Devono essere Regolati Questi bot Quale discorso Comunque Che C'è un discorso Anche di Responsabilità Poi Perché Nel creare Questi AI agent Questi agenti Ok C'è sicuramente Una parte Di responsabilità Di sviluppo Perché Chiaramente Sono sistemi avanzati Di AI Con Dei rischi Potenziali Come dicevamo prima E quindi Ci vogliono anche Delle misure Per andare Poi a controllare E mitigare Ok Questi tipi di comportamenti Da parte Di Google Deep Mind Non so poi Che impatto Poteva avere Sui giochi Finiamo con questo Chi sa la notizia Al 2019 Questa Qua ad esempio C'era Google Deep Mind All'epoca Ok Video di 5 anni fa Questo E Unito con Starcraft Che è un videogioco Al quale non ho mai giocato Ma che conosco In particolare qua Mostrava come Avevano praticamente Sviluppato Questo bot Che Era in grado Di Battere Qualunque tipo Di personaggio Umano Al gioco Con qualunque tipo Di razza E vince Quindi con diversi Tipi di Giocatori e razze Perché è diviso Razze il gioco Batte praticamente Qualunque tipo Di Essere umano E non solo Probabilmente Questo video qua È anche Out Dated Quindi è vecchio Il video Chissà ora Cosa potrebbero fare Ed è super interessante Perché apre Nuove orizzonte E comportamenti Dei Dei giocatori E come vi ripeto Questa cosa qua È molto importante Perché ha Delle applicazioni In mondo reale Tra i risultati Che otteniamo Vediamo come ci sono Delle attività Che vengono fatte Meglio Dalle AI E peggio Quindi ad esempio Sull'ambito Di muoversi Di movimento O di combattimento Ad esempio Si comporta meglio Che nell'ambito Di mangiare Cucinare Immagino Che ne abbia di meno Qua perché Avrà meno dati Di addestramento Ci saranno Molti meno giochi Che hanno il food Dentro Come meccanica E quindi È meno brava Le AI Se ha pochi dati Su quel tipo Di argomento E ci sono giochi Come vedete Nel quali Rende Meglio Le AI Rispetto Ad altri Rispetto agli esseri umani Si comporta Leggermente Peggio Quindi gli esseri umani Comunque dimostrano Una capacità Di affrontare Le sfide E di Miglioramento Superiore Però Siamo ancora all'inizio Non hanno ancora Dato in pasto Tutti i dati Tutti i giochi Possibili Immaginabili È solo un test Un test applicato Con Certi tipi di Ipotesi Quindi chissà Cosa potrebbero diventare Questi tipi di AI Sicuramente Accadono I mondi virtuali Più Interattivi Più vivi Più reali Conclusioni Cosa ne possiamo evincere Da questa cosa qua Beh sicuramente Che ci stiamo muovendo Verso una direzione Nella quale Vogliamo che Le AI Passino Dall'essere Dei Large Language Model Quindi dei Modelli Linguistici Ad essere Dei modelli Multimodali Che possano Riuscire a comportarsi Nel mondo Virtuale Come farebbe Un essere Umano Immaginate Un personaggio Non giocante Che può Muoversi Può ricordare Gli eventi Passati Può Aiutarvi Potete fare Davvero Diverse Interazioni E lui Può compiere Azioni Complesse Quindi possiamo Dirgli Creami Questo Potremmo Decidere Di tagliare Labbero Da solo Cioè È Da Una Imprevedibilità E una Verosimiglianza Ai comportamenti Dei Dei bot Nei giochi Mai vista Prima È molto utile Perché poi possiamo Traslare questi dati Questa knowledge Questa conoscenza Poi E applicarla A robot Nel mondo reale A bracci Meccanici Appunto Servono Dati Per capire Come fare Questo passaggio Ed è il motivo Per cui Google DeepMind Ad esempio Sta spingendo molto In questo tipo Di ricerca Perché è interessante Nell'ambito Poi Reale Grazie a tutti Per chi Ha seguito Fino adesso Come sempre Un abbraccio Da vostro Lorecloud È presto qui Sul canale Ciao a tutti Amici e amiche